Buongiorno, non so bene come iniziare questo video perché è un esperimento, non ho mai fatto nulla del genere, sinceramente non ho visto molti video del genere, quindi non so come fare. Comunque, sto per traslocare. È circa un anno che stavo pensando di andare via di casa, andare a vivere da sola con Mr. Chibi. Nel frattempo sono successe un sacco di cose nel mezzo, non siamo riusciti ad andare via per tanti problemi che non sto qua a delencare. Da gennaio ci siamo messi a cercare seriamente in un posto ben preciso casa, ci abbiamo messo quattro mesi, perché non è così facile trovare casa come mi immaginavo. Pensavo che una volta stabilita tra virgolette una meta ci fossero delle agenzie, ci fossero varie proposte da valutare, così non è stato, è stato orribile. Abbiamo vagato veramente per un'infinità di agenzie diverse, molte non ci hanno nemmeno presi in considerazione perché eravamo soltanto due giovani ragazzi che volevano andare a vivere insieme. Insomma, è stato un casino trovare casa, non me lo sarei mai immaginata, a parte i prezzi esorbitanti degli affitti, ma in generale è stato veramente... Boh, non me l'aspettavo così, sono rimasta molto molto male. Comunque finalmente abbiamo trovato casa, ma ovviamente non potevamo andarci subito perché noi siamo così belli fortunelli che doveva succedere qualcosa per cui la casa non poteva essere utilizzata se non fino ad adesso. Cosa che però non sapevo, quindi io è un mese che faccio gli scatoloni, organizzo di andare via senza sapere effettivamente quando sarò in grado di andare. Adesso mancano pochi giorni all'inizio vero e proprio del trasloco, meno male perché non riesco a vivere più in questo casino, ci sono vestiti ovunque, scatoloni ovunque, libri... Comunque cercherò di portarvi con me in questa nuova avventura che è andare a vivere da sola. So bene che ci sono tanti miei coetanei che vivono già da un bel po' per conto loro, io non me lo potevo permettere prima di adesso. In generale ogni cosa ha suo tempo, questo è il tempo giusto e quindi non vedo l'ora di buttarmi in questa nuova avventura. Allora queste sono parte del casino, adesso devo riempire le valigie di vestiti perché stavo pensando che è sicuramente più facile... Devo cercare la luce, la luce, ok. È sicuramente più facile spostare cose molto pesanti come ad esempio i vestiti dentro alle valigie visto che hanno le rotelle. Spero che non si spiegazzino troppo. Comunque ho selezionato un po' di vestiti, non li faccio vedere perché già mi vergogno di quello che ho fatto vedere adesso, è tutto un casino. Praticamente ho intenzione di portarmi via dei maglioncini da mezza stagione, un po' di maglietta, manica corta e jeans. Ho veramente tanti tanti jeans. Ho anche una gonna però che ho intenzione di portare via perché è un mio grosso limite la gonna, ho paura di mettere la gonna per una serie di motivi che non voglio dire. Quindi portandomela via spero di incentivarmi ad utilizzarla. È una gonna comunque lunga, non corta visto che non sono più tanto giovane. Scherzi a parte adesso mi metto a fare lo scatolone e la valigia. In realtà mancano ancora alcuni giorni dal nostro primo giro perché faremo diversi giri, presumo minimo due, per portare oltre tutto. Vorrei portare alcuni dei libri visto che adesso non ho necessità. Vorrei scatolare i manga che ho selezionato di sotto, sono veramente pochi però voglio portarli. Ovviamente non sono tutti i manga, sono quelli che devo ancora leggere. Come vi dicevo mancano pochi giorni al primo giorno di trasferimento, di trasloco. Quindi cerco di scatolare tutta la roba che so per certo non mi servirà in questi giorni, che non utilizzerò. Mi muovo con abbastanza anticipo perché mancano tre giorni circa al primo trasferimento di merce, di cose. Perché so appunto che i vestiti in questo momento, quelli che ho selezionato, non li utilizzerò. Idem per libri e fumetti e altre cose che ho selezionato anche perché in questi giorni ho altri programmi. Non so se avrò il tempo di organizzarmi tutto, preferisco farlo con calma e con anticipo così se mi viene in mente qualcos'altro nel mentre lo impacchetto. Oppure lo tiro fuori dagli scatoloni perché è già successo un miliardo di volte che io togliessi la roba dagli scatoloni. In questi giorni non ho nemmeno potuto fare merenda sulle mie tovagliette preferite perché le ho già inscatolate da settimane. Ok adesso ho messo qua le sportine, le borse di tela perché mi serviranno per mettere i manga. È più facile portarli così secondo me. Stavo svuotando questa bellissima fucsia di Bao e ho trovato tutti questi braccialetti dentro, di rucca. Questi ovviamente li porto tutti, tutti via. Questo è anche il braccialetto tra le altre cose. Non butto mai via niente, mannaggia. Purtroppo qua è buissimo, però questi sono i manga che mi porterò via più Death Note. Domani quindi è il grande giorno, si va in avascoperta, dormirò per la prima volta nella casa nuova. Sarà comunque tutta da pulire, poi sarà da sistemare, insomma ci saranno diversi lavori da fare, però non vedo l'ora. Tra l'altro non mi ricordo se l'avevo detto, ma questa casa è in una città che io non conosco, quindi sarà tutta da esplorare. Oggi ci prendiamo un attimo di riposo dallo stress del trasloco, anche perché ieri abbiamo portato tutti gli scatoloni, manca soltanto qualche pentola e i vestiti. Io e la Cibi leggiamo qua fuori all'aperto. La Cibi ce l'ha sempre con i miei libri e parrafumetti, li vuole mordere. Che poi comunque sarà un riposo molto, come posso dire, breve, perché il tempo è cambiato tantissimo da quando ho preparato i vestiti da portare via. Quindi dovrò mettere in valigia tutte cose mezze estive, perché fa caldissimo. Ieri siamo stati alla casa, come vi dicevo, a portare i primi scatoloni. È stato tutto molto frettoloso, quindi non ho avuto tempo di guardarmi bene attorno, né di fare foto, figuriamoci video. Aspettavo tutto molto diverso, la cosa del trasloco in generale. Non lo so. La casa è carina per essere, non è grandissima, però per due persone basta e avanza. Alla fine abbiamo due camere da letto, uno studio, due bagni, insomma, lusso. Però ancora non ho avuto modo di immaginarmi la casa mia, con le mie cose dentro, è stato troppo veloce. Ieri lì alla casa c'erano i vicini che facevano una sorta di barbecue, perché c'è un posto in comune, c'è un pezzo di giardino. Ed erano vestiti tutti molto in maniera estiva, pantaloncini corti, infradito. Che è un po' esagerato, secondo me, per adesso, perché anche oggi c'è un bel sole, fa caldo, tira un po' di venticello, però ci saranno top 23 gradi, quindi estate ancora non è. Ultima mattina qua a casa. Cibi, ti mancherò un pochettino? Ultimamente la Cibi sta sempre con me, o lo sente, o semplicemente ha smesso di odiarmi momentaneamente. Ecco. Non so perché sembro così arrossata, forse è il lavoro, non lo so. Comunque sono un paio di giorni, tre in realtà, che sono nella casa nuova. E l'inizio è stato molto traumatico, perché c'è tanto lavoro da fare. È una casa in cui non viveva nessuno da tanti, tantissimi anni, quindi è da mettere a posto, pulire, sistemare tante cose. E quindi sono sempre dietro a pulire. A parte questo sto anche cercando di rendere la casa un po' più mia, tra virgolette. In cucina ho sistemato un angoletto con la macchina da caffè e il bollitore per il tè. Ho messo tutti i miei tè, non tutti in realtà, ne ho portati su alcuni. Però insomma mi sto creando il mio piccolo angolo, no? Perché sapete che amo tantissimo il tè, quindi sono contenta che pian piano in casa iniziano ad esserci delle cose che sono prettamente mie e mi fanno sentire più a mio agio. Non farò un room tour, non farò un apartment tour, quindi non chiedetelo perché la casa non è mia, non penso sia molto rispettoso, non so come la prenderebbero i proprietari e quant'altro. Però magari potrebbe capitare in futuro che io condivida delle foto di piccoli angoli che ho sistemato, della mia nuova postazione video che sto ancora sistemando. Quindi spero di lavorarci bene e spero che venga fuori qualcosa di carino, insomma. Per adesso quindi sono in tenuta da casa, perdonate però, come vi dicevo sto pulendo, sto sistemando i vari scatoloni, ho quasi liberato tutto. Però mi sono dimenticata di portare dei capi pesantucci e ieri e oggi faceva freddissimo. Per fortuna ieri poi si è scaldata la temperatura, oggi invece piove, non ho l'ombrello, non ho la sciarpa e ho soltanto una giacca leggera. Quindi, però vabbè per il resto va tutto bene, ho anche fatto amicizia con una vicina, mi ha dato il benvenuto e mi ha fatto un sacco di piacere. E pian piano sto anche iniziando a girare un po' la città. Sono andata per la prima volta da sola in centro e lo so che può sembrare una cosa che fanno tutti, molto normale. Ma è una città che io non conosco, non ho senso dell'orientamento, quindi per me uscire da sola all'avventura è una sfida e sono contenta di esserci riuscita. Per adesso quello che ho visto mi piace molto, quindi spero di trovarmi bene qua, spero magari di fare amicizia con qualcuno, o meglio di conoscere qualcuno perché sono completamente da sola qua, quindi la cosa un po' mi spaventa. Eccoci qua dopo una settimana di casa nuova. So che c'è un po' di casino là, ma non fateci caso, sto ancora cercando di mettere a posto quella che sarà la mia cameretta, il posto dove lavorare, filmare e quant'altro. Allora, devo dire che ogni giorno sorge un problema nuovo in casa, quindi il primo impatto traumatico, disperatissimo, c'è da pulire, mettere a posto, ovviamente è una casa vecchia. Ci sono tanti imprevisti, ok, però per adesso mi trovo bene. Pian piano casa sembra più casa, nel senso un posto mio, forse anche grazie alle mie cose che sto iniziando a mettere in casa, il fatto di viverci comunque tutti i giorni. Sono in una città che non conosco, però sto imparando a scoprirla, ogni giorno esco, provo a raggiungere ad esempio il centro da sola, a vedere se ci sono negozi. Insomma, sto cercando di acquisire più sicurezza in me stessa, andando in giro appunto in un posto nuovo che non conosco e per ora va tutto bene. La città mi sta piacendo sempre sempre di più. È vero che al momento non conosco nessuno, però penso anche di non dovermi fare fretta, perché comunque conoscerò gente man mano. So che sono stata un tantino assente dai social, ma è stato un casino mettere internet qua a casa. Ci sono stati tantissimi problemi. Quando io dico che sono sorti tanti imprevisti, che è difficile un momento stressante, perché non c'è una cosa che vada bene. Vi ricordate quella volta in cui vi dissi, ah tenete le dita incrociate per me, speriamo che oggi vada tutto bene, ecco tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Quindi quando io dico che sono una persona abbastanza sfortunata, almeno nell'ultimo periodo, credetemi. Nonostante tutto sono viva, sono in una casa che è mia, è vivibile al momento. Questo è stato una sorta di esperimento video introduttivo alla nuova vita, al nuovo sfondo video che vedrete, che ancora sto cercando di sistemare un po'. Insomma, mi faceva piacere documentare poco alla volta il cambiamento, il grande cambiamento che stava avvenendo nella mia vita. Perché comunque andare a vivere da sola, convivere con il mio ragazzo, vivere in una città nuova, cioè tutto in una volta. Spero quindi che questo vlog vi sia piaciuto, spero mi terrete compagnia anche in questa nuova avventura. Se avete ovviamente domande riguardo la convivenza, il vivere da soli, vivere in una nuova città, insomma, se volete che ve ne parli un po' man mano in un video dedicato, ovviamente lasciatemi le vostre curiosità, domande, suggerimenti qua sotto nei commenti. E niente, io vi lascio, torno a stirare. Di nuovo, spero che questo esperimento vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con un nuovo video in questo sfondo nuovo.